Preparare una presentazione. Per molte persone che conosco questo significa mettersi al computer, lanciare powerpoint, impress, keynote o qualunque altro software usino e incominciare a buttare contenuto nelle slide. Anzi, a essere più precisi, oggigiorno copiare e incollare contenuto nelle slide. Perché facciamo così? Boh, perché è un po' quello che fanno tutti, l'abbiamo visto fare dagli altri e pensiamo che sia il modo migliore di preparare una presentazione o quantomeno quello usuale. In realtà è sicuramente inefficace. Quando prepariamo una presentazione bisogna considerare diversi aspetti e per aiutarvi io li ho raccolti in quello che chiamo il quadrato ruotato. Quattro elementi dunque. Il pubblico, il soggetto, cioè l'argomento di cui vogliamo parlare.